È una visione coraggiosa lo slogan che accompagna Cristian Fanesi al percorso verso le elezioni primarie del centro-sinistra per scegliere il candidato sindaco della terza città delle Marche. Un percorso che prima del 7 aprile lo vedrà rivaleggiare con gli altri tre assessori Etienne Lucarelli, Cora Fattori e Samuele Mascherin. Visione coraggiosa che Fanesi ha presentato al Botanic di Fano. Una visione coraggiosa per questa città non vuol dire sognare, vuol dire intraprendere strade nuove e concrete che ci possano portare ad emergere e soprattutto a diventare punto di riferimento delle due vallate del Cesano e del Metauro perché è ora di ricontinuare a pensare a politiche sovracomunali e sovraterritoriali. Fano quindi deve essere punto di riferimento di questo territorio e questo tema ovviamente è sempre molto più importante soprattutto per il fatto e lo sappiamo tutti che Fano non essendo capoluogo di provincia deve sempre avere un territorio forte, un sostegno forte per dimostrare di essere la terza città delle Marche. Sanità, urbanistica, infrastrutture, lavoro, vertici della piramide dei programmi elettorali di Fanesi. Progressivamente la regione ci ha tolto la possibilità di avere nell'ospedale di Fano specialistiche di secondo livello e quindi questo sta portando a un impoverimento delle professionalità, non siamo più attrattivi e il sindaco deve sbattere i pugni sul tavolo perché questo corso della storia possa essere cambiato. Ma ci sono anche temi molto importanti dal punto di vista urbanistico, l'arretramento della ferrovia per me è un tema fondamentale. Pensate come potrà essere Fano se la ferrovia adriatica potrà essere arretrata al di là della zona industriale di Bellocchi e quindi quello che potrà essere anche dal punto di vista del turismo per le imprese balneari ma per tanti cittadini che abitano intorno alla ferrovia che potrà essere riutilizzata come trasporto collettivo ma anche come greenway per poter come dire abbellire la nostra città e favorire gli investimenti. Ma un tema molto importante è il lavoro, il lavoro come elemento distintivo di questa città. Lavoro e sostegno di imprese saranno sempre al centro dei miei pensieri. Un programma che guarda con fiducia all'appuntamento del 7 aprile. La scelta di venire a votare il 7 aprile e sostenere la mia candidatura è un'ipoteca sul futuro della città. Le primarie sono una grande manifestazione di democrazia, è importante partecipare, è importante sostenere il candidato più giusto e quindi invito davvero tutti a darmi una mano perché di questo bisogno e del sostegno di tutti ci farà vincere anche le elezioni politiche del prossimo giugno.